Leo Gullotta, dove incontrare un grande attore, un grande testimonial, perché qui insomma parliamo di un rapporto... Grazie, ringrazio sentitamente. Un rapporto trentennale con Condorelli? Quasi trentennale, credo che ho superato anche quello famosissimo del grande Nino Manfredi con il caffè. Quindi da circa 27-28 anni, insomma, essere testimonial di un prodotto della mia terra, perché all'inizio fu scelto assieme al papà, diciamo, di Giuseppe, il famoso cavalier Condorelli, persona di grande squisitezza, di grandissimo valore. Come dire, non conoscevo. Con un incontro e con una chiacchierata, il fatto che potessi essere allora, poi non sapevo come vanno le cose nella vita, però essere un testimonial di un prodotto importante della mia terra mi piaceva moltissimo e quindi è con questo principio che ho accettato la collaborazione. Poi negli anni, diciamo, c'è stata una collaborazione attenta, profonda, di grande amicizia che bisogna mettere da parte, non è soltanto professionale, così asciutta, invece no, è molto coinvolgente. Lo è stato e lo è. Sono sempre gioioso perché se ancora oggi continua così, da una parte mi fa piacere per il prodotto dei torroncini Condorelli, dall'altro mi fa piacere anche per me. Evidentemente, diciamo, nome prodotto, testimoni al prodotto si fondono in un'unica chiave, l'uno appartiene all'altro. Questo sposalizio, diciamo, industriale, insomma, mi fa piacere. Infatti, no, dicevo nell'incipit di questa chiacchierata con lei che non c'era luogo migliore per incontrarla che nel camerino, ma a testimoniare proprio un valore reciproco tra lei e quest'azienda, perché è interscambiata praticamente. Quindi, come oggi si dice, il testimonio non è solo una faccia che si incolla a un prodotto, ma è un'aderenza. Ma di tante altre cose, la tenerezza, la simpatia, sicuramente il pubblico sceglie anche per la serenità di come arriva il prodotto nelle case, perché la televisione entra a forza nelle case e quindi quando lo vede nel periodo natalizio, perché appunto stiamo preparando la nuovissima campagna dei Toroncini Condorelli per il Natale del 21. Questo è anche positivissimo, la ripresa del lavoro, il post-pandemia. A proposito, maturo e vaccinato, quindi mi raccomando anche voi nell'ascoltare. E' importante, la lucetta si vede sempre più luce, sempre più brillante grazie ai vaccini. Tra l'altro, ecco, io volevo anche fare i complimenti per un'altra cosa, no? Guardando oggi, quando noi guardiamo gli spot, la comunicazione è sempre una comunicazione, insomma, un po' patinata. Invece devo dire che lo storytelling che avevate fatto voi all'inizio era stupendo. Lei anche in questo la vedremo con la faccia. Per la prima volta, diciamo, c'è sempre la chiusura di Condorelli è sempre un piacere, ma questa volta diciamo più che la storia, noi abbiamo sempre il prodotto Condorelli è stato fatto sempre negli spot con delle storie precise, spesso e volentieri pensando anche al cinema come punto di partenza. Ma quest'anno il prodotto viene fatto vedere allo spettatore, il prodotto qual è? Dalle nocciole, il prodotto che cosa ha? Queste cose spuntano tutte fuori e quindi lo spettatore per la prima volta vede gli ingredienti, anche se per carità l'ha consumato in tantissimi anni, non si può rinunciare mai ai torroncini Condorelli, sono davvero buoni. E quindi quest'anno è proprio il piacere di dire guardate questi ingredienti di questo straordinario e inimitabile prodotto.